Al Vì è il fitto calendario del weekend di Montorri al Vomano dedicato agli Alpini. All'interno di Ar Vì, festival di musica, arti e canti, le penne nere questa mattina si sono ritrovate per un convegno in memoria dei caduti in Russia nella seconda guerra mondiale, presso il Chiostro degli Zoccolanti. Nella giornata di ieri c'è stato il rito dell'alza bandiere e la deposizione della corona presso il cimitero comunale. Sì, in effetti è stata una bella avventura quella di organizzare questo secondo raduno che si svolgerà a Montorrio dopo quello del 2003, quindi dopo 21 anni. Il gruppo ha avuto l'onore di poter riorganizzare il raduno sezionale degli Alpini abruzzesi. Abbiamo deposto quattro corone in ricordo dei caduti di tutte le guerre, dei caduti del nostro paese nella prima e seconda guerra mondiale e abbiamo voluto anche ricordare un caduto della battaglia di Isata e Dogali, cittadino montorriese, che partecipò a quell'evento che poi oggi porta il nome dei Cinquecento. Oggi noi proseguiremo dopo questo convegno, ci sarà il rinnovo del galliardetto del gruppo perché a distanza di 34 anni da quando il gruppo si ricostituì si è deciso di intitolarlo a uno dei soci fondatori che nel 1938 insieme a altri cittadini montorriesi crearono il gruppo Alpini di Montorrio. La persona a cui andremo a intitolare il gruppo è il maestro Silvio Bonaduce. Ecco, il significato del raduno per noi ha una base sicuramente storica che vogliamo ricordare ai nostri vecchi, vogliamo ricordare tutti quegli alpini che sono morti in guerra e che hanno dato la loro vita per la nostra libertà. Lo facciamo per rincontrare in mezzo al raduno tanti amici con cui abbiamo fatto i militari, tanti amici con cui abbiamo soccorso delle popolazioni e anche questa è la fratellanza. Domani mattina ci sarà l'attesa sfilata che interesserà il centro storico e sarà trasmessa in diretta su Rete 8 a partire dalle ore 11. La sfilata naturalmente, come vuole la tradizione alpina, si aprirà con la colazione che il gruppo offrirà a tutti i partecipanti. Ci sarà l'alzabandiera nei giardini delle scuole medie e elementari, Benedetto Croce. Dopodiché ci ammasseremo lungo il Viale Dughe degli Abruzzi per poi seguire il percorso che è stato individuato insieme all'amministrazione comunale. Il tutto si concluderà in largo tom di Paolo Antonio dove ci sarà il saluto delle autorità e lo scioglimento della manifestazione.